Buongiorno a tutti, allora proseguiamo con le schedine e bollettine del Gigione con il campionato inglese e allora si parte subito con le partite di sabato, poi naturalmente ci sono le partite domeniche e anche lunedì, quindi sabato si parte con un bel Leeds Tottenham 2, poi abbiamo alle 16 Sheffield United Crystal Palace 1-2 alle 18.30 Manchester City-Celsea l'anticipo della finale di Champions League e qua signori miei il City dicono che è super favorito, io ho detto vabbè il City è appena arrivato in finale magari sarà scazzatello diciamo e magari poi ho pensato sì ma anche il Chelsea è appena arrivato in finale quindi magari sarà scazzatello anche lui e quindi ho messo un 1-2 perché è una partita da aiuto aiuto arriva al lupo perché tutte e due sono in finale, sono euforiche, hanno festeggiato eccetera eccetera quindi potrebbero scendere in campo mezzo ubriache fare uno squallido 0-0 rimandare tutto alla finale oppure scendere in campo e giocare viva il parroco 3-3 4-4 è una roba simile quindi metto un 1-2 poi magari fanno il classico pareggiotto con gol però proviamo l'1-2 perché questa francamente è una partita che esula da ogni pronostico Liverpool Southampton 1 andiamo alle partite di domenica domenica si inizia subito con Wolverhampton Brighton partita da aiuto aiuto arriva al lupo 1-2 poi abbiamo sempre domenica sempre domenica sempre domenica alle 15.05 Aston Villa Manchester United 2 poi sempre domenica alle 17.30 West Ham Everton 1 perché West Ham vorrà provare visto che è lì a tre punti dal Chelsea provare magari a raggiungerlo visto che magari il Chelsea ha la sfida con il City e quindi l'Everton è decimo nono decimo quindi però è un rischio West Ham perché anche questa è una partita abbastanza però vedo il West Ham favorito e concludiamo con la partita delle 21 che è Arsenal West Bromwich Albion 1 lunedì sera altra partita da aiuto aiuto arriva al lupo Fulham Marley 1-2 andiamo senza stare a fare sabato domenica lunedì ve le metto via schisce schisce come ce l'ho nella lista e come si dice cercherò di scandire le parole in modo che avete tutto il tempo per segnare e eccetera allora Arsenal West Bromwich Albion over 2,5 Aston Villa Manchester United goal Fulham Barley over 1,5 Leeds Tottenham a mio rischio pericolo goal Liverpool Southampton over 2,5 Manchester City Chelsea a mio rischio pericolo visto che i bookmakers vedono una partita danno goal eccetera eccetera io dico goal però è a mio rischio pericolo perché i bookmakers e poi lo vedremo nelle bollettine Sheffield Crystal Palace over 1,5 West Ham Everton goal sempre a mio rischio pericolo e Wolverhampton Brighton over 1,5 con alternativa under 3,5 andiamo alle bollette del gigione ho scelto quattro partite come sempre e si parte con Leeds Tottenham 2 City Chelsea 1 Aston Villa Manchester United 2 Arsenal West Bromwich Albion 1 con 5 euro se ne vieni con 50,27 ho letteralmente grattato i veti come i gatti per cercare quattro partite perché ero molto incerto tra City Chelsea e una partita scontata come Liverpool Southampton però siccome Liverpool Southampton era 1,28 l'1 quindi pagava veramente troppo poco rischio sia City Chelsea che è data a 1,90 che Leeds Tottenham che è data a 2 la vittoria del Tottenham perché se no non c'erano molte altre alternative le altre sono tutte partite troppo equilibrate o troppo scontate quindi ho scelto queste quattro con 5 euro come dicevo se ne vieni con 50,27 usate qualche doppia dove vi interessa metterla andiamo alla bollettina numero 2 Leeds Tottenham multigol ospite 2,4 City Chelsea multigol casa 1,3 Aston Villa United multigol ospite 2,4 Arsenal West Bromwich Albion multigol casa 2,4 con 5 euro se ne vieni con 36,14 diciamo che l'unica partita che mi preoccupa un po' è Arsenal West Bromwich Albion perché non vorrei che l'Arsenal faccia più di 4 gol con la povero West Bromwich che se non erro è penultimo in classifica eccetera però visto che comunque hanno un po' di giocatori di attaccanti che non sono al 100 come si suol dire mi auguro che non vadano oltre i 4 gol o poi magari questi mi vincono solo 1-0 poi non si sa mai anche perché hanno appena giocato la semifinale di Europa League che è andata come è andata e quindi non vorrei che siano depressi comunque i casi sono 2-0 massacrano il West Bromwich Albion per rifarsi dalla sconfitta o magari sono depressi fanno un 2-0 tranquillo e chiudono il discorso andiamo alla terza bollettina che a me piace molto naturalmente vi ho dato altre due opzioni Leeds Tottenham is 2 più over City Chelsea 1 is più over Aston Villa United is 2 più over Arsenal West Bromwich Albion 1 is più over con 5 euro se ne vincono 25,85 il classico 5 volte la posta però siccome c'erano un paio di partite che si prestano a piccola modifica andiamo a vedere bollettina extra 1 bollettina extra 2 o se preferite opzione 2 opzione 3 Leeds Tottenham is 2 più over City Chelsea 1 is più over Aston Villa United is 2 più over Arsenal West Bromwich 1 più over con 5 euro se ne vincono 32,18 quindi siamo a 6 volte quasi in mezzo alla posta opzione numero 3 Leeds Tottenham is 2 più over City Chelsea 1 is più over Aston Villa United 2 più over Arsenal West Bromwich Albion 1 più over con 5 euro se ne vincono 45,66 piccola postilla siccome nella schedina City Chelsea ho messo 1,2 io qua ho messo l'1x però se qualcuno pensa che magari il Chelsea va in casa del City lo batte perché loro devono mantenere il quarto posto per andare in Champions l'anno prossimo mentre il City avendo 13 punti di vantaggio è vero che ha una partita in più rispetto al Manchester United però sono sempre 13 punti di vantaggio magari l'1,2 anziché l'1,x potrebbe essere un'opzione 1,2 più over lì è a vostra discrezione io ho messo l'1,x anche perché comunque i boommaker vedono molto favorito il City poi sapete nel calcio esula tutto andiamo alla bollettina numero 4 Liss Tottenham goal casa City Chelsea goal ospite Aston Villa United goal casa Arsenal West Bromwich Albion goal ospite con 5 euro se ne vincono 21,50 è inutile dirvi che a me questa bolletta fa l'Ibidin andiamo alla bollettina numero 5 e qua ahimè non posso fare le imitazioni per una sola partita Liss Tottenham goal più over City Chelsea goal più over Aston Villa United goal più over Arsenal West Bromwich Albion goal più over con 5 euro se ne vincono 108,51 e l'unica partita in cui il goal più over non è favorito è incredibilmente City-Celsea perché temono come al solito essendo una big match eccetera eccetera il classico 0-0 di M io mi auguro di no mi auguro che almeno un 1-1 questi lo riescano a tirar fuori per il gol più over non va bene ma mi va bene per le altre bollette però io credo che City-Celsea qualche golletto dovrebbero riuscire a farlo poi vedremo andiamo alla sesta e ultima bollettina e qua siamo un attimino in casinatelli perché Liss Tottenham il 2 più gol favorito City-Celsea 1 più gol non è favorito Aston Villa United il 2 più gol è più o meno alla pari con il 2 più no gol ma è favorito il 2 più no gol e Arsenal West Bromwich Albion l'1 più gol non è favorito è favorito il no gol comunque Liss Tottenham 2 più gol City-Celsea 1 più gol Aston Villa United 2 più gol e Arsenal West Bromwich Albion 1 più gol con 2 euro se ne vincono 319,31 con 5 euro 798,29 ma siccome 3 partite su 4 è favorito il no gol mi faccio anche la bolletta col no gol Liss Tottenham 2 più gol City-Celsea 1 più no gol Aston Villa United 2 più no gol Arsenal West Bromwich Albion 1 più no gol con 2 euro se ne vincono 145,73 con 5 euro 364,34 Bene, detto questo vado a fare il campionato spagnolo che è il terzo video di giornata vediamo, spero ci siano partite un attimino più agevoli come si suol dire ma la vedo dura e ci vediamo naturalmente al prossimo video Ciao 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 Grazie.